Buongiorno a tutte e a tutte, mi chiamo Andrea Pillon della Società Avventura Urbana di Torino e volevo con questo breve intervento usare le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti che riguardano appunto il dibattito pubblico, il suo avvio, svolgimento e conclusione e dire due cose sulla figura del responsabile del dibattito pubblico. Il nuovo Codice non modifica le soglie dimensionali delle opere, delle grandi opere sottoposte obligatoriamente al dibattito pubblico. Il dibattito si apre sulla relazione, non più dossier di progetto, ma su una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali in relazione a cura del proponente. Per quanto riguarda i partecipanti, il nuovo Codice specifica che oltre alle amministrazioni statali, gli enti locali, regionali interessati all'opera potranno partecipare ai portatori di interessi diffusi, costituiti in un'associazione e comitati che in ragione dei loro scopi statuali sono interessati dall'intervento. Quindi questa è una modifica importante rispetto a prima che invece era aperto a tutti gli interessati. Si conclude, vedete, entro 120 giorni il termine massimo della pubblicazione della relazione di progetto. Il responsabile del dibattito pubblico nel nuovo Codice è selezionato dalla stazione appaltante tra i propri dipendenti e ha la funzione e il ruolo di progettare le modalità di svolgimento del dibattito pubblico e ha un mese di tempo per fare questo lavoro. In questo documento si stabiliscono i temi di discussione e le modalità di partecipazione. Il nuovo Codice prevede che queste siano esclusivamente attraverso strumenti informatici o telematici, a meno che non vi siano degli elementi oggettivi che rendono necessaria la calendarizzazione di incontri con altre modalità. Sempre il coordinatore valuta e eventualmente richiede per una sola volta modifiche alla relazione di progetto, favorisce come già era prima il confronto tra i partecipanti al dibattito, cura la sezione del sito istituzionale della stazione appaltante dove vengono caricate tutte le informazioni sul dibattito pubblico e ha come prima il compito di fare una relazione conclusiva su quanto è emerso. In particolare la relazione conclusiva del coordinatore dovrà contenere le attività svolte nel corso del dibattito, fare una sintesi dei temi, viene specificato in modo parziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte che sono emerse, deve descrivere quali sono poi le questioni aperte maggiormente problematiche rispetto a quale si chiede alla stazione appaltante di prendere una posizione e novità sempre nella relazione finale il responsabile del dibattito pubblico potrà indicare quali sono le proposte ritenute meritevoli di accoglimento. Il dibattito pubblico come si conclude? Si conclude con una relazione conclusiva da parte della stazione appaltante che entro due mesi dovrà appunto dire come intende, se intende modificare il progetto. Grazie e buonasera.